Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze-Scandici in direzione Firenze. In A1 verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Sempre in A1 ma in direzione Roma sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 288 tra Firenze-Scandici e Firenze-Impruneta. È in atto uno sciopero del trasporto pubblico su gomma e a Firenze della tramvia. Per quanto riguarda lo sciopero degli autobus si invita a seguire i nostri canali social mentre per quanto concerne la tramvia sono possibili disservizi e disagi tra le 9.30 e le 17.00. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!